Per approfondire la questione che è stata sollevata dai colleghi di opposizione relativamente al villaggio San Francesco, la Commissione si è occupata per ben due volte di questa tematica. Nella prima Commissione sono emersi le prime criticità. In Commissione era presente l'assessorato che ha già iniziato un tavolo di lavoro che sta approfondendo il tema e che evidentemente seguirà le indicazioni che noi oggi in aula mandiamo. Non mi risulta che Commissioni precedenti a quella che io presiedo abbiano affrontato in Commissione questo tema, con la presenza anche del nuovo comitato e tra l'altro nel momento in cui abbiamo fatto il sopralluogo e siamo andati a verificare le condizioni del villaggio e degli abitanti di questo comprensorio, che sono molti e trattandosi più di 200 beni appunto, loro ci hanno comunicato che non avevano mai visto nessun consigliere prima d'ora in quel municipio. Purtroppo i temi che noi affrontiamo sono molteplici, la Commissione, molteplici quelli incancreniti che ereditiamo e che cerchiamo poi di affrontare dando una direzione con approfondimenti. Abbiamo fatto una commissione anche sul borgo degli artigiani di via Tordinona, eppure non c'era nessuna lezione lì. Quindi lo stiamo trattando tra l'altro successivamente, quindi insomma mi sembra un pochino pretestuoso volersi astenere in una mozione che chiede tra l'altro che tutte le risorse che entrano per l'alienazione di queste case vengano reinvestite in quel comprensorio che veramente ne ha molto bisogno. Grazie.